E' il giubbotto, gli occhialini, gli occhialoni e il casco. No il casco, occhialoni e casco. Casco per terra perché no? Vai via! Vai via, cretino! 20 dicembre 1991. Muore l'attore Walter Chiari, al secolo Walter Anni Chiarico. Esordiente nel 1946 nel teatro di rivista, Walter Chiari consolida la sua figura di attore comico e brillante intrattenitore anche in televisione, in teatro e nel cinema. Memorabili sono le sue interpretazioni in Bellissima di Visconti, Il giovedì di Dinorisi e Fallstaff di Orson Welles. Negli anni 70, a causa di alterne vicende con la giustizia, scompare dalle scene. Un infarto lo stronca, mentre seduto in poltrona, sta guardando la tv nel residence dove abita. Il giovedì di»... ... con